Sì no 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 che cosa facciamo oggi? Nuovo! Sacaglia liberare direttore generale, tac! Professioni, colore, animali, verdure, frutti, sport, cose, cibi, bevanti, nuovo! Street lage! Flicorno, laconico, lacero! Lale lale lale! Armiere, mostrare, oleato! Oleato è un bel aggettivo! Ninjutsu! Bidet quale scandito Bidet quale zucchino Bidet quale prezzemolo, lamella, macinapepe, astrologo scure, calcio a 5, bombardino, pallone a pugno Ciliegie Bidet quale zappetta Bidet quale occhialini Bidet quale lumaca acquatica Bidet quale capostazione Bidet lo voglio! Giro stabilizzatore Volevo proprio cantare questa parola, primo po' nella vita e forse no Bidet quale passiss Bidet quale passiss Bidet quale passiss Perfetto E che che musicate Ci vediamo Bidet quale passiss 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 e avvicinare di te quale per stessi avvicinare